I segnali G ed NE, rispettivamente il segnale di posizione angolare, albero motore, e il segnale NE, il segnale numero giri motore, questi sono segnali generati dal rotore di fasamento o piastrine di segnale e da bobine di rilevamento. Questi segnali sono utilizzati dall'ecomotore per rilevare la posizione angolare dell'albero a gomiti e il regime del motore. Sono segnali molto importanti non solo per il sistema EFI ma anche per l'ESA. I sensori possono essere raggruppati in tre categorie sulla base della loro posizione di montaggio ma la loro struttura fondamentale e il funzionamento sono gli stessi e abbiamo il distributore, il sensore di posizione CAM e il tipo separato. Per quanto riguarda i distributori impiegati con il sistema di governo del motore con il sistema controllo elettronico, questo tipo di distributori non hanno più i tradizionali meccanismi di anticipo e masse centrifughe e a depressione, in quanto l'anticipo di accensione viene controllato in maniera elettronica dall'ecomotore. Il distributore usato nel sistema di governo del motore contiene i rotori di fasamento e le bobbine di rilevamento per i segnali sia G che DNE. Infatti qui in figura è mostrato il rotore di fasamento del segnale G, che ricordiamo che è il segnale di posizione angolare motore e la bobbina di rilevamento G. Poi abbiamo il rotore di fasamento del segnale NE, cioè del segnale del numero di giri motore e la bobbina di rilevamento di questo segnale. Il numero di denti sul rotore e di bobbine di rilevamento varia a seconda del motore. Il segnale G, che ricordiamo che è il segnale posizione angolare albero motore, informa l'ecomotore circa la posizione angolare dell'albero a gomiti, che viene impiegata poi per determinare le fasi di innessione e di accensione rispetto al punto morto superiore, però di ciascun cilindro. I componenti del distributore impiegati per generare questi segnali sono il rotore e la bobbina. Se osservate qui la figura abbiamo il rotore di fasamento del segnale G che viene montato sull'alberino del distributore e fa un giro ogni due giri dell'albero a gomiti. Invece la bobbina G viene montata all'interno dell'alloggiamento del distributore. Il rotore di fasamento del segnale G è dotato ad esempio di quattro denti che attivano la bobbina di rilevamento quattro volte per ciascun giro dell'albero distributore. Così viene generata la forma d'onda mostrata qui in questa figura, in questo diagramma, e da questi segnali l'ecomotore stabilisce quando ogni pistone si avvicina al punto morto superiore. Invece per quanto riguarda il segnale NE, cioè il segnale numero giri motore, questo segnale serve all'ecomotore per rilevare il regime del motore. Il segnale o i segnali NE sono generati nella bobbina di rilevamento dal rotore di fasamento nello stesso modo del segnale G. L'unica differenza è che il rotore del segnale NE, cioè del numero di giri motore, ha 24 denti, come potete vedere qui in figura. Ricordiamo invece che per generare il segnale G, cioè quello della posizione angolare, nel nostro caso, nel caso precedente, aveva 4 denti, come potete vedere qui in figura. Quindi ritorniamo al nostro segnale numero giri motore. Dicevamo che il rotore di fasamento ha 24 denti. Questo quindi attiva la bobbina di rilevamento 24 volte per giro dell'alberino del distributore, generando questa forma d'onda che viene mostrata qui in questo diagramma. Mediante questi segnali, l'ecomotore determina il numero di giri del motore con un impulso di circa, no di circa, con un impulso di 30 gradi, o meglio di ogni 30 gradi di rotazione dell'albero a gomiti. Qui viene mostrato il circuito elettrico del distributore di cui abbiamo parlato. Qui il distributore, ricordiamo che ha una bobbina per generare il segnale G, ha una bobbina con quattro denti e una bobbina con 24 denti per generare il segnale NE. Su alcuni tipi di motori, il terminale G dell'ecomotore, cioè il terminale del segnale posizione angolare albero motore, è messo a massa attraverso un diodo. Quando c'è il diodo nel circuito, la misura della tensione tra il negativo e la terra dà un valore di 0,7 Volt circa. Un altro generatore di segnali G ed N, oltre il distributore, è il sensore di posizione CAM. La costruzione e il funzionamento del sensore di posizione CAM è uguale a quello del distributore, a parte l'eliminazione del sistema di distribuzione della tensione. Se qui osserviamo la figura, infatti notiamo il rotore di fasamento del segnale G, la bobbina di rilevamento del segnale G, il rotore di fasamento del segnale NE e la bobbina di rilevamento NE. In quest'altra figura viene mostrato il circuito elettrico e le successive forme d'onda dei segnali G ed NE. In questo caso abbiamo due bobbine con un dente e una bobbina con 24 denti. Le due bobbine con un dente generano i segnali G1 e G2, quindi segnali che hanno a che fare con la posizione angolare dell'albero a gomiti. Invece la bobbina con 24 denti genera il segnale NE, cioè il segnale numero giri del motore. In questi diagrammi vengono indicati invece i segnali G1, i segnali G2 e il segnale NE. altro generatore dei segnali G ed NE è il tipo separato. Questo generatore rispetto agli altri tipi si differenzia per la posizione dei sensori. Qui in figura vengono mostrate le posizioni delle bobbine di rilevamento. Tuttavia il funzionamento è identico a quello degli altri generatori. In questa figura viene mostrata la bobbina di rilevamento del segnale G, cioè della posizione angolare dell'albero motore, e in quest'altra figura invece la bobbina di rilevamento del segnale NE, cioè del segnale numero di giri, numero di giri motore. avvalendoci di quest'altra figura cerchiamo di spiegare in che modo viene generato il segnale G. Allora in questa figura cosa notiamo? Notiamo la cinghia di distribuzione, la puleggia di distribuzione albero a camme, l'alloggiamento del distributore, la piastrina di segnalazione G e la bobbina di rilevamento. Cerchiamo di spiegare come funziona. Allora la rotazione della piastrina di segnalazione sull'albero a camme altera la distanza tra la bobbina di rilevamento e le sporgenze delle piastrine stesse. Questa variazione di distanza genera una forza elettromotrice nella bobbina, creando così il segnale G. I segnali che vengono generati vengono mostrati ad esempio da questo diagramma. Qui abbiamo i segnali G, G1 e G2. Stessa cosa avviene per il segnale NE. Qui in figura viene mostrato la cinghia di distribuzione, questa volta l'albero a gomiti, la bobbina di rilevamento NE e le piastrine di segnalazione NE. Dicevamo che il segnale NE serve all'ecumotore per rilevare il regime del motore e sulla base di questi segnali l'ecumotore determina la durata base dell'iniezione e l'angolo base di anticipo dell'accensione. I segnali NE sono generati nella bobbina di rilevamento dalla piastrina di segnalazione NE, nello stesso modo del segnale G. L'unica differenza è che la piastrina di segnalazione NE ha 12 denti anziché uno solo e quindi vengono generati 12 segnali per ciascun giro del motore. E mediante questi segnali l'ecomotore determina il numero di giri del motore con un impulso ogni 30 gradi di rotazione dell'albero a gomiti. Infine vi mostro il circuito elettrico di questo generatore. Per generare il segnale G1 abbiamo una bobbina con un dente, per generare il segnale G2 abbiamo una bobbina con un dente e per generare il segnale NE abbiamo una bobbina con 12 denti.